Non tradisce emozioni per il rientro, seppure per poco, in uno dei palazzi del Senato a due mesi della sua decadenza da senatore. Silvio Berlusconi viene accolto con una standing ovation a Palazzo Giustiniani, dove viene presentato un libro di cui ha scritto la prefazione. Il sangue di Abele, Vivi per testimoniare, è appunto una testimonianza di un frate prigioniero per oltre 20 anni del regime comunista albanese. L'intervento di Berlusconi è tutto dedicato al libro ed è un attacco diretto e durissimo al comunismo, specie quello albanese. Questo libro porta degli episodi, dei massacri, delle torture, di una efferatezza che non può che essere prodotta da menti malate, perché c'è un eccesso che io non pensavo si potesse raggiungere. All'attualità politica e a un mutato atteggiamento verso la sinistra italiana, Berlusconi dedica solo una risposta. Credo che sia una speranza di tutti noi, seguiamo le vicende, vediamo se davvero la sinistra italiana possa fare quello che l'Inghilterra fece oltre 100 anni fa, passando dal comunismo al partito laborista. Immancabile la stilettata finale alla magistratura. Non sono abituato a ricevere premi, ho ormai un'abitudine a ricevere sentenze di condanna.